Solo per una settimana riapre l'Academy dopo due anni e mezzo di chiusura al pubblico, solo i corsisti avevano accesso ragazzi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Non è uscito male. Allora, riapre l'Academy una settimana, domani alle ore 17 alle 5 di pomeriggio, facciamo un webinar completamente gratuito ragazzi. Non c'è bisogno neanche di registrarsi, basta seguirlo dal link che vi lascio in descrizione. È un classico webinar dove interagiremo e dove vi spiego perché la riapriamo. Intanto perché stiamo facendo un test per vedere se effettivamente avendo creato nuovi percorsi di formazione per utenti meno schillati che non hanno magari seguito il mio corso basic, comunque per loro l'Academy può essere adeguata appunto per iniziare questo percorso di trading. Ne parliamo però meglio domani perché l'Academy nel corso di questi anni è cambiata veramente tantissimo ragazzi. Abbiamo fatto delle evoluzioni enormi e siamo passati da veramente una struttura un po' creativa iniziale siamo passati a una struttura che adesso si affaccia addirittura al Web3 perché ci sono anche delle novità che arriveranno a breve dove avremo anche il Web3 e tutto quello che è all'interno di NFT, token eccetera ma anche le parti automazione, trading system e bot subiscono un incremento, un upgrade enorme e soprattutto dei tools estremamente importanti per i trader che potranno utilizzare sui propri ordini in maniera totalmente automatica tools creati anche da me con le mie strategie eccetera è un progetto estremamente complesso, ci stiamo lavorando da tre anni ragazzi siamo in direttura d'arrivo, mancano gli ultimi test ma già i sistemi automatizzati funzionano alla grande poi c'è la nuova sezione DeFi all'interno dell'Academy dove ci sono tutte le spiegazioni dei protocolli e del cripto che possono essere anche delle gemme da seguire, non le faccio io perché ci sono altri analisti anche in Academy ragazzi quindi trovate anche più figure, insomma è tutto un nuovo mondo, tutto da scoprire ne parliamo però domani alle ore 5 ragazzi, non mancateci, tengo personalmente perché voglio anche la vostra opinione su questo tipo di servizi Academy è stata la prima in Italia creata per il settore delle criptovalute e risale ormai a oltre 5 anni fa eravamo pochi iscritti, si potrebbe dire tutti diciamo così fervi di avanti di Bitcoin si è evoluta in tanti modi, mi serve anche la vostra opinione vorrei capire anche quello che mi dite, siccome domani è una live fatta su YouTube staremo insieme e potete anche scrivermi nei commenti quello che pensate ore 17 martedì 6 giugno vi aspetto parliamo ora di Bitcoin e della questione legata a questa settimana c'è un pericolo cioè il fatto che nonostante il mercato americano Nasdaq 100 in particolar modo sia iper performando perché sta salendo veramente come un nuovo trend totalmente al rialzo nessuno se lo aspettava trend is your friend sempre e comunque cripto e mercati old e sta performando in maniera estremamente positiva ma Bitcoin non lo sta seguendo ragazzi il rischio è dietro l'angolo perché se Nasdaq dovesse iniziare una fase ribassista da un trend estremamente spinto che è quello che ha avuto nell'ultimo ciclo mensile questo è il secondo semestrale del probabilmente del ciclo annuale di Nasdaq se va a chiudere poi inizia tutta una campana al ribasso non sappiamo come potrà reagire Bitcoin massimi 2023 potrebbero essere già stati fatti quindi per i mercati delle criptovalute e dobbiamo aspettare fino alla fine dell'anno le reazioni di questa settimana ci sono state Ethereum ha provato a rompere il canale rialzista quello che lo tiene un po' soggiocato da aprile più o meno ma Bitcoin non no ragazzi vedete qui il tentativo ne parliamo ancora in questo video e c'è un grafico questo grafico qui estremamente importante quello che ci fa sguicciare tra cripto e mercato old lo spread tra Bitcoin e Nasdaq 100 che sta facendo una chiusura ciclica fenomenale tutta la partita si gioca da metà giugno in poi ci siamo arrivati alla fine lo parliamo da un sacco ne parliamo da un sacco di tempo ci siamo arrivati andiamo a fare un po' il punto della situazione prima però le news della settimana allora lunedì oggi non c'era granché ragazzi il discorso della lagarda e quant'altro come vedete è una settimana un po' spenta oserei dire che la cosa diciamo la notizia la notizia più importante a livello magro è l'apertura della mia academy vabbè scherzi a parte ragazzi comunque sicuramente sarà l'argomento insomma più interessante da andare a vedere tutte le novità e tutte le cose perché in effetti non c'è granché da un punto di vista di analisi macro per questa settimana forse solo i sussidi di disoccupazione giovedì ma ragazzi sono cose che ormai muovono veramente poco il mercato da un punto di vista del FONC ragazzi si ritorna indietro dopo gli ultimi dati di Powell con un FONC che è previsto per il 14 giugno prossimo prevede un non rialzo dei tassi di interesse quindi evidentemente il mercato sta girando vedete come fa Spola da una parte all'altra da una parte all'altra c'è un po' di indecisione però in questo momento si punta di nuovo a un nonamento dei tassi in effetti il mercato lo sta un po' scontanto tant'è vero che il risk on su Nasdaq 100 avete visto che è schizzato alle stelle quindi il trend è incredibile bellissimo di Nasdaq 100 nessuno avrebbe scommesso su una cosa del genere a inizio dell'anno vabbè allora iniziamo a vedere l'analisi ciclica poi guardiamo la questione del grafico più importante che vi ho spiegato Nasdaq 100 4 Bitcoin perché c'è una news e su quel grafico lì si va a basare secondo me tutta la ciclica dei prossimi tre mesi almeno di Bitcoin quindi tutta l'estate allora partiamo velocemente dall'analisi ciclica di Bitcoin e vediamo che sostanzialmente questo ciclo che è iniziato sul minimo del 25 di maggio è molto debole perché sembra palesemente aver fatto il suo primo live quindi il suo massimo nella prima parte è un ciclo palesemente deboluccio ragazzi quindi o fa parte di una struttura vedete fatta un po' ibrida così del ciclo precedente ma io sono più propenso per il fatto che qui sia iniziato sicuramente un nuovo mensile stiamo a 11-12 giorni sopra il minimo del 25 di maggio direi che potremmo dire che qui è iniziato un mensile in maniera abbastanza tranquilla mensile che probabilmente andrà ad essere simile anche ai precedenti qui erano stati particolari secondo me la struttura ciclica del mensile di Bitcoin è avvenuta in questo modo quindi qui teoricamente se è iniziato un nuovo mensile è iniziato anche un trimestrale a meno che questo mensile non diventa ribassista entro pochissimo tempo cioè se fa una cosa del genere cosa non strana vi dico francamente anzi da un punto di vista di analisi ciclica basilare diciamo quella la teoria la BC dell'analisi ciclica la soluzione più comune è che questo ciclo mensile di Bitcoin sia ribassista quindi teoricamente dovremmo andare con un ciclo ribassista che non dovrebbe essere più lungo di 25 giorni secondo me non sarà lunghissimo a compensare questa questione qui che era avvenuta in maniera ibrida questi 17 giorni quindi secondo me potrebbe fare una cosa del genere e chiudere i giochi intorno a questa o massimo la prossima settimana questa view è quella più probabile attenzione però perché ragazzi i mercati nelle fasi di snodo tra un ciclo e l'altro a volte creano delle figure un po' diverse quindi fanno finta per esempio che si sta andando verso una direzione poi invece invertono quindi questi cicli non vengono spesso confermati in queste fasi perciò bisogna andare con i piedi di piombo oggettivamente però la situazione più probabile è la chiusura intorno o vicino a 25.800 o meglio al di sotto in questa fascia di pricing quindi tra 25.000 e 25.800 della chiusura di questa struttura ciclica struttura ciclica che se la mettiamo in concomitanza con la questione del ciclo trimestrale potrebbe spostare vedete il ciclo trimestrale a circa se finisce diciamo questa settimana domenica per esempio 93 giorni anche qui siamo un po' lunghetti con un ciclo trimestrale del precedente del ciclo annuale quello in santo novembre durato già tantissimo molto lungo un altro molto lungo ci può stare ragazzi però il dubbio il dubbio lo abbiamo perché in questa fase bisogna capire insomma che sostanzialmente il mercato potrebbe tranquillamente invertire da qui ecco fare questa cosa quindi questo lo so che alcuni di voi diranno insomma tutte e due le posizioni sono in questo caso proprio sono proprio così ragazzi tutte e due sono valide la più probabile è che andiamo a chiudere al di sotto di quel minimo vicino al minimo del 25 maggio però io sostanzialmente ve lo dico un po' il dubbio ce l'ho per il fatto che le cose più scontate a volte i mercati non li fanno e quindi bisogna anche considerare che l'altra ipotesi secondo me va presa in considerazione a prescindere se dovessi dare un numero di probabilità direi che la probabilità che si finisce al di sotto dei minimi di maggio in questa struttura ciclica è comunque del 55-60% contro un 45-40% dell'altra che da qui è iniziato una nuova fase trimestrale però io non vi nascondo che qui abbiamo preso uno stop la scorsa settimana in academy con la strategia settimanale il tentativo del long è stato comunque fatto con quella strategia perché intanto va solo long purtroppo con questo fatto che va solo long su bitcoin ragazzi incominciano nelle fasi di trend del ribassista soffriamo perché andiamo contro trend ovviamente vabbè detto questo però io continuo a ragionare così su bitcoin solo long vabbè detto questo quindi bisognerà attendere almeno questa struttura per capire soprattutto questo minimo molto importante il minimo a 27.3% già breccato questo livello insomma ragazzi qui lo swing diventa palesemente di breve al ribasso e quindi il mercato rischia di fare questo tipo di figurazione allora questa è la questione più importante poi il superamento di questa area invece intorno ai 28.3% è l'unica cosa che potrebbe innescare invece l'inizio di un nuovo ciclo trimestrale dal minimo di maggio e lì cambia tutto perché col ciclo trimestrale si porta anche il ciclo semestrale quindi il tentativo di andare a fare il touch dei massimi c'è ancora ci sarebbe ancora invece se ancora siamo nel trimestrale precedente come sembra anche per la forza relativa estremamente bassa di bitcoin in questi mesi allora a quel punto rischiamo ancora un nuovo minimo questo laterale ribassista che possa continuare anche Ethereum non ci dà una mano perché? perché Ethereum non è riuscito a breccare questo livello già se Ethereum fosse riuscito a fare un break al di sopra di questa fase dava un segnale più evidente c'è da dire però che è al di sopra di questo minimo del 12 di maggio Ethereum da un bel po' di tempo ragazzi e qui la questione si complica perché siamo a 24 giorni va bene però non possiamo ancora cattare vittoria ma la probabilità che qui sia iniziato almeno un nuovo trimestrale per Ethereum è molto alta allora capite bene com'è la questione cioè Ethereum inizia un trimestrale in questa zona e Bitcoin no allora sembra un po' strana tutta questa ambiguità perciò bisogna tenersi con due piedi in una scarpa e fare molta attenzione anche alle posizioni di bassiste che anche se più probabili su Bitcoin possono essere rischiose ragazzi anche in questo caso io non le faccio lo sapete però se qualcuno di voi le fa tenetele sotto controllo magari abbassate il vostro trailing stop man mano che il mercato vi ha dato profit insomma controllatele perché la situazione non è così tanto semplice in questo momento detto questo passerei al grafico più importante di oggi che era quello che mi premeva farvi vedere cioè la questione dello spread tra Nasdaq 100 e Bitcoin se vi ricordate come un orologio svizzero abbiamo analizzato questo grafico quando sul minimo di novembre indicava che da qui era iniziato palesemente un nuovo annuale molti avevano anche dubbi anche io stesso avevo un po' di dubbi su inizio di su novembre del nuovo annuale si aspettava magari una fase ancora ribassista per Bitcoin invece questo grafico aveva chiarito moltissimo tutta la questione time frame settimanale su questo grafico e vedete la struttura dei cicli annuali disegnata in maniera impeccabile tra Bitcoin e Nasdaq perché è un grafico di spread e funziona molto molto bene ragazzi guardate qui sono annuali lunghissimi alcuni di voi li usano fare a metà io li faccio in preferisco fare in questo modo perché l'annuale di Bitcoin standard è 400 e qualcosa quindi non mi interessa se allunga vicino ai 4,90 certo sono lunghi ci vaccherebbe però possiamo comunque considerarli lo stesso tanto alla fine si vede che qui è iniziato un nuovo annuale quindi non è che ci sia granché da fare allora questa struttura vedete ha fatto sul minimo di sul minimo del 6 di marzo la prima la chiusura del primo trimestrale perché qui siamo in un nuovo annuale di Bitcoin contro Nasdaq dopodiché guardate la fase ribassista sta chiudendo il semestrale semestrale che sta avvicinandosi ai 200 giorni 210 giorni li fa 203 giorni o 210 li fa la prossima settimana cioè se questo grafico sta andando a disegnare un minimo significa che tra un po' quindi tra questa settimana e l'altra dovremmo assistere uno a una ripresa di forza di Bitcoin nei confronti di Nasdaq 100 e di conseguenza anche magari il fatto che Nasdaq 100 possa andare o diventare più debole di questa fase rialzista quindi iniziare uno storno quindi da una parte potremmo avere Bitcoin che o sale o regge e l'altra Nasdaq che scende oppure l'ipotesi potrebbe essere sale Nasdaq continua e Bitcoin sale ancora di più oppure la fase che diciamo non ci sono altre fasi sostanzialmente la continuazione di questo trend discendente sarebbe estremamente negativo per Bitcoin non credo che lo farà però vi ricordo che qui è un segnale un'indicazione molto interessante cioè la chiusura di un ciclo semestrale è un po' corto rispetto ai cicli precedenti come vedete anche se siamo in una struttura del genere questa fase qui per esempio il ciclo molto simile a quello attuale che è quello iniziato nel dicembre 2018 quindi il ciclo dell'anno 2019 ha fatto una struttura che ha creato diciamo il massimo dal minimo su questo spread a 196 giorni ancora qui questa struttura ciclica vedete è molto diversa perché il massimo è stato fatto molto prima cioè 140 giorni mancano 60 giorni circa quindi anticipato questo significa che in pratica la configurazione probabile di un ciclo a montagna come lo chiamo io così è improbabile in questa struttura ciclica annuale di Bitcoin contro Nasdaq è più probabile invece assistere a una cosa di questo tipo cioè dei cicli vedete da 190 190 100 e qualcosa magari giusto per chiudere poi con l'ultima fase di si chiama lingua di Bayer di conclusione diciamo di questa struttura per cui ragazzi io in questo momento sto sposando un po' l'idea della struttura ternaria non che sia ribassista ma che sia ternaria di questo grafico e quindi potrebbe in effetti fare così ve le metto neutrali così qualcuno di voi non si imbroglia le strutture ternarie solitamente sono un po' più lunghe può fare anche l'annuale la binaria cioè fare così e poi così assolutamente sì però secondo me se fa una binaria allungherà questo minimo in zona 20 di giugno quindi la settimana sostanzialmente almeno qui 26 giugno con 217 giorni quindi allungherà un po' secondo me e questo significa che ancora la possibilità di fare un mensile ribassista di bitcoin c'è quindi anche questo grafico lei vince però questo grafico ci dà un'informazione molto rilevante ragazzi che siamo in una fase di snodo e che da qui bitcoin potrebbe in effetti riavere un po' di forza relativa nei confronti di nasdaq perché guardate che fase ribassista che sta andando a disegnare anzi se andiamo a inserire dei cicli un po' più piccoli che sono quelli per esempio daily che sono più rumorosi chiaramente ragazzi non ha molto senso utilizzarli qui guardate questa zona è il trimestrale qui invece abbiamo vedete già su questo minimo 87 giorni e insomma siamo in scadenza questa settimana potrebbe concludere tutta questa struttura facendo i due cicli trimestrali classici 1 e 2 ho fatto un disegno che fa schifo proprio 1 e 2 e chiudere i giochi quindi questo grafico è molto importante una inversione con trendline disegnata di questa struttura e che si riporta al di sopra della lineetta gialla qui disegna due ragazzi che è uno spread molto difficile da apprezzare con i livelli basta guardarlo graficamente fa una cosa del genere e si riporta qui l'inversione di questo trend è molto importante ed è e sarà un segnale di forza enorme di bitcoin quindi a quel punto un ulteriore conferma della possibilità di un nuovo semestre su bitcoin che possa tentare non è detto che ci riesca tentare di raggiungere i massimi fatti ad aprile detto questo ragazzi abbiamo finito quello che c'è da fare nel video vi volevo solo dire che per creare questo spread chi di voi ancora non lo sapesse fare basta prendere bitcoin e btc usd e dividerlo per us 100 questo io utilizzo il cfd per fare queste cose ovviamente non è proprio pulitissimo però va bene insomma ci sono molti dati perché poi i dati sui future sono invece ritardati in trading view se non avete la versione premium e quant'altro quindi utilizzo quello vi ricordo l'appuntamento di domani nella riapertura dell'academy alle ore 5 ci vediamo stiamo insieme in questa live parliamo dell'academy di quello che facciamo rispondo alle vostre domande e un'occasione d'oro ragazzi ci sarà anche la classica offerta per chi entra e facciamo un po' di cose belle insieme ci prepariamo a questo momento che secondo me è importantissimo dalla zona di fine settimana questa e la prossima sarà una figata ciao a domani